Buonasera a tutti, c'è un nuovo aggiornamento sulla dashboard abbastanza importante e pertanto vi registro questo video per farvi vedere nuovamente le istruzioni per il caricamento sono un po' differenti, migliorate, e soprattutto per farvi vedere gli aggiornamenti che abbiamo posto in essere adesso carichiamo la dashboard nel modo canonico con cui si installa nello schermo della vostra metatrader prendendo ad esempio il lavoro che ho su uno dei miei schermi personali questo è uno schema di metatrader che ho con i grafici su base oraria o a 30 minuti o a 5 minuti secondo di ciò che voglio vedere degli strumenti principali che seguo che sono i listini di borsa espressi su CFD due cambi valutari, l'euro dollaro e il dollaro yen e il bond e gli americani detto che ognuno di noi giustamente può personalizzarsi e vedrete poi un secondo esempio la dashboard con gli strumenti che preferisce può anche non metterne su un grafico metterne uno, lasciare solo la schermata in evidenza carichiamo adesso la nostra dashboard la ospito su un grafico di sterlina dollaro che metto qui da una parte visualizza, navigatore, vado a cercarmi la dashboard versione 27.4, tasto sinistro, la trascino a questo punto si apre la schermata dove io ho caricato il preset degli strumenti che desidero in questa schermata sono cambiate alcune cose fra le quali quella più importante è questa dando un valore positivo ad esempio 30 o un valore negativo meno 5 si stringe o si allarga la dimensione della dashboard vediamo entrambi gli esempi in questo caso ho volutamente stretto impostando questo valore meno 25 la dashboard per farla rientrare più in piccolo e pertanto creare un campo più ristretto di osservazione sul quale magari andrò a togliere poi le cose che non mi interessano riportiamo la dashboard a valori ordinari metto 0 salvo questo profilo e lo chiamerò l'api 1 cioè il base e la dashboard come vedete si allarga per coloro che hanno la dashboard più stretta e quindi hanno magari dei problemi di risoluzione ci è capitato con un paio di computer Apple di questo genere in questo caso allora facciamo un esempio 15 nell'esempio in questione andremo a cercare un piano a caratteri più allargati l'ho già preparato si chiama l'api grande poi ognuno gli dà il nome che vuole faccio apri e vedete che i piani le colonne si allargano ognuno potrà pertanto metterle nel modo che vuole e questa è una prima novità seconda novità torniamo a un piano normale è la seguente per quanto riguarda i target 1, 2 e 3 che siano target di operazioni a rialzo come questa per esempio del DAX che siano target di operazioni a ribasso vediamo quale ci può essere ecco esatto questa del Bund quando l'ultimo prezzo ha toccato anche solo per un istante come per esempio il caso del Bund uno dei target DAX per esempio a 680,5 ha superato il target 1 che era a 666 deve eventualmente fare i conti col prossimo target a 689 Eurostox sta a 605 ha superato il target 1 e il target 2 i target si illuminano cioè si colorano di verde lo stesso il Bund che anche se per poco ha toccato 160 e 71 l'ha già fatto perché adesso è short a 160 e 66 quando il prezzo reverse cioè il prezzo che può cambiare il trend da long a short o da short a long tende a essere avvicinato dall'ultimo prezzo battuto o toccato o anche di poco superato si illumina di giallo e resta illuminato costantemente di giallo questo è quindi un avviso sul fatto che il trend in questo caso per esempio rialzista di euro o ribassista di oro sta cominciando a essere un trend che potrebbe mutare questo di oro per esempio potrebbe il condizionale ovviamente è d'obbligo cominciare a cambiare di posizionamento restano invariati i segnali di opposite target stop cioè che possono essere segnalati o meno se non volete nella dashboard che sia pubblicato uno di questi campi cioè non vi interessa per esempio andare mai in controtendenza potete fare due cose una momentanea e una lievemente più radicale da un lato per esempio non volete l'aggressive trading lo cancellate la dashboard si stringe vi lascia sempre la possibilità di riaprire il campo qualunque esso sia anche questo piuttosto che questo o viceversa li potete chiudere e stringere tutti a seconda del momento di default non volete però stare tutte le volte a fare queste cose allora c'è un'altra possibilità di intervenire nella programmazione della piattaforma andate dentro la piattaforma e dove c'è scritto session setting cioè che sono quindi i livelli sostanzialmente dove si preimposta ciò che voglio vedere vedete che i dati gli indicatori i price levels sono tutti true cioè sono tutti visibili di default aggressivi trading è posizionato come false può essere true cioè lo voglio sempre visibile false in questo caso abbiamo creato un profilo che è quello senza gli aggressivi di default senza quindi dove li toglie da qua la mattina quando aprite il programma il programma vi si apre già così nulla vieta che cliccate qui dentro e in qualunque momento lo potete poi recuperare a questo punto posizioniamo la dashboard all'interno dello spazio che gli abbiamo riservato io cancello il nome lapidai dashboard non mi interessa questa parte qua posiziono la dashboard qui dentro la stringo in questo momento l'ho impostata con una visualizzazione piuttosto larga e quindi stringerò i grafici degli strumenti su cui sto lavorando per metterli in condizioni di maggiore distrettezza per fare posto alla piattaforma ora noterete che mancano quelli che vi abbiamo dato come novità importante ovvero i segnali come si fa? abbiamo inserito un tastino vedete show level premi e vi compaiono direttamente tutti i segnali togli show level e i segnali vanno a scomparire per la personalizzazione dei colori dei vari segnali che escono di default e col prezzo di entrata in giallino eccetera eccetera io ho creato un piano con i colori più evidenti e per esempio con i caratteri dei colori diversi nel senso che posso avere un carattere arial per indicare per le scritte dei segnali e posso avere un carattere 10 voglio mettere 8 voglio mettere calibri ad esempio salvo questa modifica in questo piano carico a questo punto il piano show level e ho i caratteri più in piccolo con una scritta proprio diversa sparmati e sparati già sui grafici stessi mi dà fastidio vederli non mi servono no problem show level PG e i caratteri vanno via show level rimetti e i caratteri vanno via carino no? quindi le modifiche sui settaggi dei caratteri sulla grandezza della piattaforma all'angare o stringerla le modifiche sui caratteri in generale e le grandezze dei pulsanti i target segnati qua in verde il refresh direttamente dei grafici che quindi vi consente al mattino quando aprite la piattaforma chiamate la piattaforma chiamate il piano di lavoro rinfrescate i grafici e avete tutto a posto il tutto rende la gestione della manovrabilità della piattaforma stessa molto 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 più veloce buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti